Assessore, qual è il senso e l'importanza di questa iniziativa presentata oggi presso la Fira Pescara? Perché vogliamo attivare un percorso per rendere ufficiale la realtà dei co-working in Abruzzo, che sono sicuramente utili, anzi io riterrei essenziali per alcune possibilità che devono essere date ai ragazzi universitari, ai professionisti, ai ricercatori, insomma tutta una serie di figure che nell'impossibilità o nella non convenienza di investire in proprio su una realtà lavorativa possono accedere a queste situazioni di lavoro in comune, sfruttando nella regolarità di ogni tipo di attrezzatura una possibilità di abbattimento dei costi e anche di ricerca se non di innovazione. Presidente, cos'è il co-working? Il co-working è uno spazio di lavoro a disposizione di giovani professionisti, imprese, start-up innovative per trovare una collocazione, spazio-temporale rispetto alle necessità di innovazione tecnologica molto elevate. FIRA ne gestisce uno, questo è molto importante sottolinearlo, negli ultimi quattro anni abbiamo cercato di spingere molto sulla comunicazione della presenza di questo spazio così attrezzato, sono circa 60 postazioni dotate del massimo della tecnologia possibile, immaginabile rispetto ad internet e rispetto a tutte le connettività, ma non è solamente uno spazio fisico a disposizione delle piccole imprese, a disposizione delle giovani start-up è anche un punto di aggregazione, cioè un luogo attraverso il quale si può fare socialità economica e quindi si può sviluppare una nuova attività improduttiva attraverso le connessioni tra i vari soggetti che sono occupanti di queste postazioni. Qual è il ruolo nei co-working di Abrex? Abrex si propone sempre come quello strumento finanziario a disposizione delle aziende, quindi aiutare le start-up innovative che vogliono crescere e iniziare a svilupparsi nel nostro territorio e allo stesso modo possono essere uno strumento finanziario per aiutare i co-working a sostenere quelle spese che sono necessarie per mantenere in vita queste strutture e ospitare nuove aziende. Quindi Abrex è sempre uno strumento finanziario a disposizione delle aziende che facilita appunto quelli che sono gli scambi e le buone pratiche tra le aziende stesse. Com'è stata questa esperienza? Un'esperienza parecchio interessante che mette al centro quello che è un sistema ormai di lavoro che deve essere assolutamente sviluppato perché si parla appunto di una modalità e non solo di luoghi. Questa modalità è quella che dominerà il mercato dei freelance e delle start-up e in generale delle aziende e quindi è parecchio importante far sì che ciò avvenga.